Guarda, è Jessie la Jeep! Ha una torta! Wow, sembra gustosa! Ma ecco che arriva Bandito il bus! Sembra abbia in mente qualcosa! Oh no! Sta mangiando la torta di Jessie! Non è affatto giusto! Povera Jessie! Ecco Buster il bus! Ed ecco Bandito, che sta guidando troppo veloce! Guarda! Buster è andato a giocare con Scout! Le ha regalato un pallone da calcio! Guarda come ci dà dentro, Scout! Guarda là! Digley sta costruendo una torre colorata! Ma ecco che arriva Bandito! Chissà cosa vuole fare quel terribile bullo! Oh no! Ha fatto cadere la torre di Digley! Bandito è un pericolo pubblico! Oh oh! Ha visto la palla di Scout! Bandito sta rubando il pallone! Che prepotente! Buster vuole fare qualcosa! La povera Scout è davvero sconvolta! Buster vuole aiutare la sua amica! Affronterà Bandito e gli farà restituire la palla! Non credo che Bandito ascolterà Buster! Infatti sta facendo il prepotente! Non è giusto! Ma aspetta! Jessie si è messa vicino a Buster! Anche Scout è arrivata ad aiutare! Sono tutti stufi di Bandito e dei suoi modi da bullo! C'è Otis, la macchina della polizia, che si sta gustando un gelato! Ups! Bandito è andato contro Otis! Otis sembra arrabbiato! Va a dare una lezione a Bandito per essere stato cattivo con tutti! Ora Buster, Scout e Jessie possono giocare a calcio in pace! Guarda! C'è Scout! E c'è anche Buster! Penso stiano giocando ad acchiapparella! Cosa ha visto Buster? Oh wow! Un labirinto! Scout ci sta entrando! Forza Buster! Vai a cercarla! Chissà da che parte è andata Scout! Eccola là! Insieme si fanno strada nel labirinto! E adesso, da che parte dovrebbe andare Buster? Di qua! Oh, guarda! Un fiore giallo! Che bello! Ancora qualche svolta! E ora? Da che parte? Di qua! Aspetta un attimo! È di nuovo quel fiore! Buster ha girato a vuoto! Forse ripetendo il percorso all'indietro riuscirà ad uscire? Ecco Scout! Anche lei si è persa! Wow! Buster e Scout si sono ritrovati! Grazie al cielo! Ma ora devono trovare il modo di uscire! Scout sale sul tetto di Buster! Forse riuscirà a vedere l'uscita! Eccola! Ottimo lavoro, Scout! Partono veloci verso l'uscita! Ma... Da che parte è? Oh cielo! Sono ancora persi nel labirinto! Guarda! Tracce di gomme! Possono seguirle e arrivare all'uscita! Bella idea, Buster! Ecco di nuovo quel fiore! Ancora un po' e... Urrà! Sono riusciti ad uscire! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Guarda! È Rita l'auto sportiva! Sta sfrecciando all'interno del labirinto! Oh beh! Immagino che Buster e Scout dovranno aiutarla ad uscire! È una giornata molto ventosa alla fattoria! Guarda! Penso che Terry voglia mostrare qualcosa a Buster! Ehi! È Monty, la mongolfiera! È un vecchio amico di Terry! Salutalo, Buster! Deve essere molto divertente poter fluttuare nell'aria come un palloncino! Ma... Oh! Il vento si sta alzando! Spero che Monty non voli via! Oh no! La corda si è spezzata! E il vento porta via Monty! Presto, Buster! Devi inseguirlo! O chissà dove andrà a finire! Monty è davvero in alto! Come puoi fare per riportarlo giù? Guarda! Una corda! Mi chiedo cosa abbia in mente, Buster! Sbrigatevi, ragazzi! Dovete superare Monty! Che cosa farà, Buster? Oh certo! Un lazzo! Pronto al lancio, cowboy! Ah! C'è riquasi! Ma Monty continua a venire portato via da Buster! Al vento! Ci deve essere un modo per salvare Monty! Cosa ha visto ora Buster? È Iggy, il furgoncino del gelato! Con un sacco di palloncini! Penso di aver capito il piano di Buster! Guarda! Buster si è legato addosso tutti i palloncini! E ora sta volando in cielo! Forza Buster! Puoi farcela! Afferra Monty! Ci sei quasi! Ci sei quasi! Ci sei quasi! L'hai preso! Ben fatto, Buster! Hai salvato la situazione! Monty ti è molto grato! Monty è di nuovo legato in sicurezza! Non volerà via come quel palloncino! Bel lavoro, Buster! Ciao, Buster! Wow! Attento con quella spaventosa melma verde! La stai facendo schizzare ovunque! Guarda! C'è Terry il trattore! Non credo voglia essere ricoperto dalla melma! Guarda com'è prudente! Zoom! Fermo! Attento, Buster! Stai andando dritto contro Terry! Fiu! C'è mancato un pelo! Attento, Buster! Oh cielo! Hai spruzzato la melma su Terry! Non penso ne sia molto entusiasta! E Buster riparte! Va a divertirsi con la melma! Attento! Oh no! Buster è rimasto bloccato nella melma appiccicolata! Oh santo cielo! È proprio rimasto incollato! Il sole sta tramontando! E sta venendo buio! Che paura! Spero che a Buster vada tutto bene! Guardate! Terry il trattore! È venuto a risolvere il problema! Anche se Terry non sembra molto felice di questa situazione! Per favore aiuta Buster, Terry! Deve solo dargli una bella spinta! Ce la farà! Uno! Due! Via! Urrà! Grazie Terry! Oh Buster! Grazie al cielo Terry il trattore è arrivato a salvare Buster dalla melma verde appiccicosa! Ciao Terry! Ciao Buster! Ciao a tutti! Che meraviglioso tramonto! Scommetto che Buster si è divertito un sacco sotto i raggi del sole! Oh, chissà cos'è quella melma verde! È così appiccicosa e... Oh no! È caduta su Buster! E non penso se ne sia accorto! Cosa sta succedendo? Qualcosa non va! Guarda tutte quelle lapidi e zucche che stanno comparendo! È spaventoso! E cos'è successo a Buster? Credo che quella melma verde l'abbia trasformato in uno zombie! E quello chi è? Oh no! È Buster lo zombie! Bigger è davvero terrorizzato! Ma non credo che Buster sappia di avere quell'aspetto! Oh guarda c'è Scout! Buster è proprio felice di vederla! Oh no! Anche lei sembra spaventata! Oh no! Scout si nasconde da Buster! Proprio come ha fatto Digger! Povero Buster! È così triste e sconsolato! Dai Scout! Buster è tuo amico! Credo che Scout abbia un'idea! Vuole che Buster la segua! Buster, ora capisci! Sembri uno zombie! Ecco perché tutti hanno paura di te! Non preoccuparti Buster! Guarda! La melma è venuta via! Ed è rimasta sulla ruota di Scout! Penso che Scout abbia un piano! Un'autolavaggio! Ottima idea Scout! Buster è sempre felice di andarci! Sì! Il verde è andato via! Buster non è più uno zombie! È stato molto spaventoso Buster! Oh cielo! Scout! Uno lì come un lupo mannaro! Felice arrivi da tutti! Ehi Buster! Ecco un'altra bella giornata per divertirsi! Oh no! È bandito il bus! Buster attento! Ti schianterai! Aspetta! Cosa sta succedendo? Oh wow! Stai fluttuando nell'aria! È incredibile Buster! Chissà se puoi anche volare! Oh wow! Ti sei trasformato in un supereroe! Sei velocissimo! Super Buster è qui! Woohoo! Cosa ha visto Buster? È Otis! La macchina della polizia! Chissà cosa sta cercando Otis nella galleria! Ehi! È bandito il bus! Cosa sta tramando? Nulla di buono! Oh no! Ha spinto la roccia davanti all'ingresso! E ha chiuso Otis nella galleria! Devi salvarlo Buster! Non puoi lasciare che bandito il bus la faccia franca! Quel macigno sembra molto pesante! Va tutto bene Buster! Ora sei un supereroe! Puoi salvarlo! Oh Buster! I tuoi occhi! Wow! Hai la visione laser! Bravo Buster! Hai liberato Otis! Adesso andiamo a catturare quel furfante di bandito il bus! Ecco Bandito! Sembra stia nuovamente tramando qualcosa di losco! Scout attenta! Povera Scout! Guarda chi c'è! Ora sei nei guai! Super Buster è qui! Buster puoi fermarlo! Super Buster è troppo forte per Bandito! Questo dovrebbe averlo fermato! Ora Buster deve solo aiutare Scout a uscire dallo stagno! Guarda Bandito! Ora è lui quello bloccato! Oh! È stato solo un sogno! Non penso che la maestra sia molto contenta! Ehi! Ciao Buster! Oh! Guarda un po'! Sei nel far west! Dai un'occhiata al tuo cappello da cowboy! Quello deve essere lo sceriffo con la sua luccicante stella dorata! Oh! Guarda! Un lazzo! Ottimo lavoro Buster! Ora sei un vero cowboy! C'è Terry! Inclina il tuo cappello da cowboy e saluta! Non penso che Terry sia rimasto molto colpito! Aspetta! Oh! È bandito il bus! E cos'ha sulla schiena? Un sacco! Penso che abbia derivato al negozio di caramelle! Che pillano che è! Devi fermarlo Buster! Presto Buster! Si sta allontanando! Inseguilo! Sveglia sceriffo! C'è un criminale a piede libero! Sfrecciano lungo i binari del treno! Più veloce Buster! Non puoi lasciar fuggire bandito! Wow! Bandito è saltato davanti a Suki il treno! Aspetta che passi il treno e... Dove è andato? Oh no! Sta andando nella direzione opposta! Che sub! Stagli dietro Buster! Bandito sta cercando di seminare Buster nel campo di cactus! Attento Buster! Sono molto spinoso! L'hai quasi preso! Attento! Stai bene Buster! Oh no! Il cactus ha bucato la tua gomma! Bandito sta scappando! Oh no! Non la prenderei mai con una gomma a terra! Aspetta! Ma certo! Il lazzo! Lancia lo Buster! Uno! Due! Tre! Via! Grandioso! Ce l'hai fatta! Hai catturato Bandito! Ed ecco lo sceriffo Otis! Ti sarà sicuramente grato! Eccoci! Bandito è finito in regione! Un posto che si merita! Oh wow! Anche tu hai un distintivo! Lo sceriffo Buster! Non è fantastico? Wow! Che sogno eccitante! Buon viaggio Buster! Credo che Buster stia di nuovo dormendo! Dove sei Buster? Guarda tutte quelle palle giganti colorate e i giocattoli! Sembra un ottimo luogo per un'avventura! Vediamo cos'altro troverà Buster! Wow! Guarda quell'orsacchiotto! Guarda com'è grande! Sembra morbido e coccoloso! Ah così Buster! Fatti dare un forte abbraccio! Sembra proprio affettuoso! Oh no Buster! Cos'è quel rumore? È un gancio gigante! Credo che Buster sia dentro una grande macchinetta a chiappa premi! Buster attento! Sta per prenderti! Dai Buster! Era solo un brutto sogno! Guarda! C'è Scout! Sembra che Buster sia ancora un po' scosso! Ma non hai più niente di cui preoccuparti Buster! Guarda Buster! Scout ha qualcosa da farti vedere! Chissà cos'è! Oh no! È una macchinetta col gancio! Buster sembra spaventato! Scout non ne ha paura! Forse è divertente! Non preoccuparti Buster! C'è Scout con te! Guarda Buster! C'è l'orsacchiotto! Perché non provi a vincerlo? Dai Buster! Sei coraggioso! Puoi farcela! Ok Buster! Prendiamo l'orsacchiotto! Fai con calma! Così sembra vada bene! Ok! Ecco che scende! L'hai preso? E quello cos'è? Non è l'orsacchiotto! Oh oh! È un piccolo pullman giallo! Questo giocattolo è proprio uguale a te Buster! Questa cosa fa ridere Scout e Buster! Buster ora ha superato la sua paura della macchinetta col gancio! Ehi ciao Buster! Oh wow! Una palla da calcio! Guarda è Scout! Vuole giocare! Bel passaggio Buster! Bella mossa Scout! Chi sta guidando lungo la strada? È Tony il furgone! Oh no Buster! Fai attenzione a dove tiri la palla! Stai attento Tony! Vai! Deve essere stato doloroso! Spero che Tony stia bene! Buster deve essere più cauto! Occhio a quel chiodo! Oh no! Ha bucato la gomma di Buster! Guarda Scout! A Tony il furgone serve aiuto! So di chi abbiamo bisogno! Sì! Amber l'ambulanza! Ottimo lavoro Scout! È sicuramente una giornata intensa! Spero che ti riprenderai presto Tony! Oh Buster! Deve essere una cosa molto dolorosa! Non ti preoccupare! È stato solo un incidente! Tony è in buone mani! E Amber tornerà presto! Buster guarda! C'è Amber! Chiediamole di ripararti! Buster va verso il garage! Aha! Oh wow! Tony sembra in gran forma! Buster sta per farsi cambiare la ruota! Tutto sistemato! Wow! Oh Buster! Gli incidenti capitano! Stai più attento la prossima volta! Un bel passaggio Buster! Oh no! Non di nuovo! Questa volta! Buster sta più attento! Guarda a destra! Guarda a sinistra! Ora sì che ci siamo! Ben fatto Buster! Da questa parte Buster! Ehi ciao Buster! Cos'è quello? Un pallone da calcio! Oh guarda Buster! Tutti i tuoi amici sono in fila! Pronti per giocare a calcio! E hanno bisogno di un altro giocatore! Fatti avanti Buster! Sarà molto divertente! Calcio di inizio! Ah! Troppo piano Buster! CJ l'ha detto di ora! Sta per tirare! Riuscirà Jesse G per parare! Forza Jesse! Puoi farcela! Oh! C'eri quasi ma... Gol! Bel tiro CJ! Bel colpo di testa Buster! Che colpo di piede Scout! Ottima difesa Digger! Scout ha tirato la palla contro Digger! Scout sta avanzando per fare gol! Vai Scout! Ce la puoi fare! Nessuno riesce a placcarla! Gol! Così si fa a Scout! Jesse passa a Scout! Scout passa in avanti! Ottimo passaggio di Digger dritto verso Bandito! Oh! Questo è stato poco sportivo Bandito! Bandito sta per segnare! Jesse riuscirà a parare questa volta! Oh no! Jesse ha fatto scocchiare il pallone! Vuol dire che il gioco è finito! Oh! Grazie al cielo! Otis ha una palla di scorta! Il gioco ricomincia! Ora l'atmosfera si sta scaldando! Buster sta correndo a fare gol! Oh no! Bandito e il basso ha spinto Buster! È fallo! Ottimo arbitraggio Robin! Bandito ha ricevuto il cartellino rosso! E Robin non lo stelle! Questo è ciò che accade quando si gioca in modo scorretto! Ora Buster tirerà un calcio di rigore! Forza Buster! Goal! Ce l'hai fatta Buster! Avete vinto la partita! E' anche una bella coppa! È stato proprio divertente! Ehi, ciao Buster! Che bella giornata per fare un giro! Non c'è nemmeno una nuvola in cielo! Buster passa sul ponte! Aspetta! Attento Buster! C'è una crepa nel ponte! Oh cielo! Il ponte è caduto! Che disastro! Senza il ponte nessuno può attraversare il fiume! Ma aspetta! Buster ha visto qualcosa! Ci sono delle assi di legno e del nostro adesivo! Credo che Buster abbia un'idea! Sa cosa vuole fare! Guarda! Buster ha attaccato insieme le assi di legno! Ottimo lavoro! Oh oh! I pezzi di legno sono caduti! Credo proprio che così non funzionerà! Ma aspetta! Quella chi è? È Catrina! La barca a vapore! Chissà se potrà essere d'aiuto! Forse insieme a Catrina e Buster riusciranno ad aggiustare il ponte! Brava Catrina! Ora Buster può usare il legno per aggiustare il ponte! Oh oh! Sembra che Terry il trattore voglia attraversare il fiume! Pare contrariato di dover aspettare! Non preoccuparti! Lavorando in squadra, Buster e Catrina potranno aggiustare il ponte alla svelta! Adesso Buster sta sistemando il ponte un pezzettino alla volta! Così sarà più resistente! Ups! Buster ha fatto cadere una delle assi del fiume! Ciononostante sta facendo progressi! Ci siamo quasi! Il ponte è quasi completamente riparato! Ecco! L'ultimo pezzo! Ottimo lavoro! Ora Terry può attraversare il ponte in sicurezza! Bravissimi Buster e Catrina! Vero che è divertente lavorare in squadra! Grazie a loro il ponte ora è come nuovo! Oh! Ehi! È Buster il bus! Cosa starà mai facendo seduto sulla cima di quella montagna innevata? Wow! Buster sta sfrecciando giù dalla montagna! Guarda! Fai attenzione Buster! Le strade potrebbero essere scivolose! Ehi! È Suki il treno! Sta sbuffando mentre scende dalla montagna! Ora Suki e Buster sono fianco a fianco! Ma mi chiedo... Chi arriverà in fondo alla montagna per primo? Buster e Suki iniziano una gara! Guarda come corrono! Oh no! Delle palle di neve giganti sono rotolate sulla strada! Attento Buster! Buster deve rallentare! Ma Suki può continuare a correre! Ora Buster ha raggiunto Suki! Sono testa a destra! E ora? Buster e Suki prendono strade diverse per scendere dalla montagna! Suki passa sopra il ponte! Buster ci passa sotto! Suki sta andando più veloce che può! Guarda! È stato azionato lo scambio! Suki ha preso una scorciatoia per arrivare al traguardo! Accelera per passare in testa! Ed ecco Buster! Ma... Oh oh! Suki è quasi al traguardo! Buster deve andare velocissimo per riuscire a raggiungerla! Aspetta! Credo che Buster abbia un'idea! Buster ha creato uno snowboard con il cartello stradale! Ottimo lavoro Buster! Guarda come slitta giù dalla montagna! Buster ha preso il comando! Urrà! Buster è arrivato primo! Suki è appena dietro di lui! È stato divertentissimo! Buster e Suki si sono divertiti un sacco a correre giù dalla montagna! Go Buster! Wow Buster! Guarda quel palloncino rosso! Perché non provi a prenderlo? Bel tentativo Buster! Ma sta volando via! Oh Buster è triste! Oh ciao piccolo Robin! Forse tu potresti riuscire a prendere quel palloncino rosso in fuga! E vai! Grazie Robin! È proprio un bel palloncino Buster! Oh wow! C'è un altro palloncino! Questo è verde! Il veloce Robin lo prende! Evviva! Ora hai due palloncini Buster! Accipicchia! Guarda quei palloncini colorati! Sai cosa fare Robin? Buster! I palloncini ti stanno sollevando da terra! Robin non trova più Buster! È lassù Robin! Buster sta volando! Va tutto bene Buster! Non avere paura! Guarda che vista da lassù! Terry non riesce a capire da dove venga il claxon! Guarda là in alto Terry! È un uccello? È un aereo? No! È Buster il bus! Non è una cosa che si vede tutti i giorni! Oh Buster! Stai fluttuando molto in alto ora! Terry sembra così piccolo laggiù a terra! Mi sa che Buster sta iniziando a spaventarsi! Non vuoi finire nello spazio Buster! Robin devi aiutarlo! Ottima idea! Se fai scoppiare i palloncini Buster dovrebbe tornare giù! Oh no! Buster sta venendo giù troppo velocemente! È tutto ok Buster! Hai quasi raggiunto il suolo! Penso che manchino ancora un paio di palloncini Robin! E... Ci siamo! Buster è felice di essere di nuovo a terra! Buster, credo che dovremmo lasciare il volo a Robin! Oh, dove sta andando Robin? Un altro palloncino! Credo che Buster ne abbia avuto abbastanza di palloncini per oggi! Ciao Buster! Ciao Robin! Ehi, c'è Buster! Sta facendo un giro con Scout! Guarda! C'è Tony il furgone delle consegne! Sembra che Scout e Buster vogliano seguire Tony per vedere dove andrà oggi! Si stanno divertendo un sacco insieme! Che buffa Scout! Buster non sta prestando attenzione alla strada! Attento Buster! Oh, fiu! Per un pelo! Fa' attenzione Buster! Hai quasi tamponato Tony! Oh, guarda! C'è una buca sulla strada! E Tony sta andando dritto verso di lei! Oh no! La buca ha fatto aprire gli sportelli di Tony! Attenti Buster e Scout! Sembra che alcuni di quei pacchi possano cadere giù! I pacchi iniziano a volare in strada! Penso che Tony non se ne sia nemmeno accorto! E sta per cadere un altro pacco! Wow! Che prontezza Buster! Ottima presa! Mi arriva un altro! Ben fatto Scout! Ottimo lavoro! Oh no! Sì, presente Scout! Scout ha perso il controllo ed è finita fuori strada! Il suo pacco è finito su quell'albero! Oh, guarda! Tony si deve fermare al semaforo rosso! Questo vi farà guadagnare tempo! Veloce Buster! Non hai molto tempo per riportare i pacchi! Bella pensata Buster! Adesso bisogna trovare il modo di rimettere i pacchi al loro posto! Sembra che Scout abbia un'idea! Bel lavoro, Scout! Puoi usare quella tavola di legno come rampa! Ci siamo! È l'occasione perfetta per rimettere a posto i pacchi! Ottimo lavoro di squadra! Ora puoi chiudere gli sportelli, Buster! Giusto in tempo prima che diventasse verde! Tony parte! Credo che non saprà mai di essere stato così vicino a perdere tutti i suoi pacchi! Bravo, Buster! Brava, Scout! Con qui Buster il basso e Terry il tractor! Sembra che stiano per fare una gara! Buster sembra molto fiducioso, vero? Terry non sembra molto colpito! Chissà chi vincerà! Iniziamo! Pronti! Attenti! Via! E sono partiti! Buster vola al comando! Dai, Terry, puoi farcela! Non credo che Terry sia veloce come Buster! Aspetta, cosa fa? Oh, che sfacciato, Buster! Si sta mettendo in mostra! Povero Terry! Buster è davvero convinto di vincere! Non sei ancora al traguardo, Buster! Vai avanti, Terry! Hai ancora una possibilità! Oh, Buster! Non prendere in giro Terry! Via! Non ti stai comportando molto bene! Vai, Terry! Dimostrerai a Buster che non serve solo la velocità per vincere una gara di corsa! Buster è in grande vantaggio adesso! Guardalo sfrecciare attraverso tutte le pozzanghere fangose verso il traguardo! Oh, Buster! Lo so che fa caldo! Ma non puoi essere stanco! Non hai finito la gara! Guarda laggiù! È un albero di mele! Penso che Buster farà un pisolino all'ombra! Che sfrontato, Buster! Stai diventando un po' troppo sicuro di te, vero? Oh, cielo! Buster si è addormentato! E guarda chi c'è! Terry Tractor! È riuscito a superare Buster! Oh, che sciocchino, Buster! Hai dormito troppo! Si dirige di corsa verso il traguardo! Non credo gli piacerà quello che scoprirà! Ci sei quasi, Buster! Ma dov'è Terry? Eccolo là! Terry ha tagliato il traguardo per prima! Che stupidino, Buster! Non avresti dovuto dormire così a lungo! E non avresti dovuto essere così esibizionista! Perché è evidente che chi va piano e costante vince la gara! Ciao, Buster! Ciao, Terry! Ciao, ciao! Grazie a tutti.